Presidente Gian Piero Giacalone, una partenza molto importante, 3-0 contro lo Schacke in casa, il campionato è partito alla grande per il Mazzara 46, si aspettava una prestazione così importante, intensa, fin dai primi secondi? Devo essere sincero, io non sono contento assolutamente perché quando dicevo ai tifosi, ai simpatizzanti, agli sportivi che la squadra che stavamo allestendo sicuramente poteva concorrere assieme a 4-5 squadre a poter vincere il campionato, tutti mi prendevano per pazzo. Quando poi invitavo a più riprese i responsabili del calcio mazzarese a far sì che ci unissimo per consegnare agli sportivi una storia che non si ripete da 40 anni, dal famoso 83-84, altri mi dicevano che ero ancora pazzo. Oggi dico con molta umiltà, pur avendo registrato una prestazione straordinaria della squadra, dico con molta umiltà mettiamoci assieme, costruiamo qualcosa di grande, facciamo la storia, facciamo che questa città che per certi versi è sempre frastagliata, divisa, litigiosa e io ho partecipato anche a questa litigiosità, dico con molta umiltà in un momento che potrebbe essere esaltante per dire noi abbiamo vinto, voi avete perso, invece dico andiamo tutti insieme a costruire un sogno per questa straordinaria città. Ecco come vedete non mi addentrerò in vicende tecniche, saranno l'allenatore e altri, ma per quanto riguarda perderò e lotterò fino all'ultimo respiro per far sì che Mazzarabba abbia un'unica squadra e che possa rendere giustizia a quella gloriosa squadra che nell'83-84 ha fatto sognare questa città e poi per come si è interrotta quell'esperienza molti, 2.000, 3.000 non vengono più allo Stato, quindi la società è intenzionata a chiedere ogni giorno, in qualsiasi intervista vedrete che io dirò sempre così, sono a disposizione totalmente, ho detto che mi sono dimesso e mi dimetterò per copartecipare a un progetto straordinario che va oltre Iacolo, che va oltre Ortis, che va oltre Tumbarello, che va oltre Giacalone. Questa città finalmente merita di scrivere una pagina straordinaria calcistica, vedere due squadre a Mazzar e poi dover concorrere con la Nissa che è un capologo di provincia, con l'Enna che è un capologo di provincia, quest'anno sicuramente no, ma a Favara che è una città straordinaria, ci rende figli di un Dio minore. Siccome il futuro lo possiamo disegnare noi, io faccio appello agli amici che hanno iniziato questa esperienza nell'USD di Mazzara a consegnare una pagina calcistica importante, il Mazzara ai Mazzaresi, il calcio mazzarese ai Mazzaresi e noi faremo tutta una serie di misure per far riportare tutta quella gente allo stadio che è bruciata anche con precedenti penali che in quell'occasione hanno dovuto sobbaccarsi.